I carabinieri della compagnia di Salerno agli ordini del capitano Calandro stanno cercando attivamente due giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni di altezza media che questa mattina hanno compiuto una rapina nell'ufficio postale di Fratte in via Nicola Fiore nella zona nord del capoluogo. Erano le 9.30 circa quando i due malviventi a bordo di un ciclomotore sono arrivati dinanzi all'ingresso dell'ufficio postale. Uno dei due casco in testa ed armato di pistola è rimasto fuori dinanzi all'ingresso appunto affare da palo. L'altro col volto coperto da una sciarpa è entrato all'interno dell'ufficio postale dove in quel momento si trovavano oltre a quattro dipendenti anche alcuni utenti, ha scavalcato il banco degli sportelli e minacciando gli addetti con il coltello ha asportato il denaro dai cassetti poco meno di 10.000 euro. Poi in tutta fretta è uscito e con il complice che lo tendeva all'esterno è fuggito a bordo del motorino. Prontamente intervenuti sul posto i carabinieri hanno ovviamente raccolto le testimonianze dei dipendenti e visionato le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso. È possibile che i due rapinatori, avendo utilizzato un ciclomotore, siano rimasti nell'area urbana. Ovviamente tutto è da verificare. Nessuno all'esterno dell'ufficio postale avrebbe visto nulla che possa essere in questo momento utile alle indagini. Grande spavento per i dipendenti che lavorano all'ufficio postale di Fratte, che ovviamente è rimasto chiuso al pubblico.